Con Marco Minucci alla ripresa degli allenamenti, Marco si è negativizzato anche il componente dello staff, quindi problema Covid ormai alle spalle, come stanno i ragazzi da un punto di vista fisico? I ragazzi stanno abbastanza bene, è tolto Frulla che ha un problemino un po' il paccio che gestiremo nelle prossime settimane e per il resto stanno rientrando tutti con dei lavori graduali ma contiamo di avere Lulli riaggregato al gruppo tra domani e poi domani, Varga riaggregato anche lui, Amoruso, Peroni e abbiamo ancora fuori sacco per un problemino a un piede ma anche lui in via di guarigione. Grazie a tutti